... Anche per trattenere i giovani e i matri, l'eccellenza, investire in grandi poli di innovazione, di ricerca, polo tecnologico, per vedere se ha diritto o meno ad aprire una determinata attività e quindi in questo modo è creduto Napoli-Est. Qual è il progetto di Napoli-Est? I cittadini di Messina e di Reggio Calabria, non lo voglio, Carlo Tezzo, dove sta... I produttori non sono classiste.